Sono circa 3.000 i prodotti contraffatti sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Salerno a Cava dei Tirreni nell'ambito di un controllo in materia di sicurezza dei prodotti e la lotta alla contraffazione dei marchi. Le fiamme gialle della compagnia di Cava dei Tirreni sono intervenute presso un esercizio commerciale della cittadina dove hanno rinvenuto merce per la maggior parte costituita da complementi per cellulari posto in vendita in violazione all'enorme anticontraffazione. Un'ispezione più approfondita da parte delle fiamme gialle ha consentito di rinvenire ulteriori accessori prevalentemente auricolari cover caricabatterie di noti marchi anch'essi contraffatti. Si è proceduto così al sequestro dei 3.000 prodotti irregolari il cui valore commerciale è stato stimato approssimativamente in circa 50.000 euro.